einfach A gösteria Proseguiamo con Francesca Capurro, marketing communication manager di BMW Milano, che ci spiegherà una volta tra tutte perché la Serie I è diventata attrazione anteriore, che è una cosa che io non tollero! Benvenuta, benvenuta, prego. Ma l'unica cosa che mi piacerebbe la più, è guidare un'auto. Come un paese blinde, hai bisogno di confere il tuo driver. Mi nome è Miru, e sono legalmente blinde. Ho perduto la mia parte quando ero 27 anni. Ciao a tutti, sono i vostri guide oggi. Volevo prendere il white cane con te e seguire il sonore di mia voce. Ci siamo qui, nel l'exhibizione Dialog in the Dark in Hamburg, dove i visitori possono comprare la vita quotidiana di un paese blinde. Is this a car? And together with BMW, we prepared an autonomous driving test vehicle for a special challenge. I will take place behind you, and there's a belt. Just relax and enjoy the ride. Yeah, it's not so easy to relax when you don't see. I cannot see anything. Oh my god! Oh my god! Oh my god! And how are you feeling? Wow! 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 No way! There's... There was no driver? Where's the driver? No, like really, where's the driver? No, like really, where's the driver? Where's the driver? Crazy guy. We can do it again if you want. It really opens a lot of possibilities for all of us. I think the most important thing for myself is that I really can trust the car. It's one thing to drive without seeing something, but it's another thing to drive with no driver. I didn't know who was driving, but after a while I sort of gained confidence and trust. Autonomous driving gives me my freedom back again. There are so many devices for blind people and you can compensate almost everything, but nothing can replace your independent mobility. I'm absolutely excited about the future. and the experience is transferred to a machine, to a car, to a car. In addition to the autonomous driving, return to us a moment and to what we are launching in this moment, BMW, to my left and to my left, to my left, you can see the last two models that have been released on the market. To my left, the new BMW Series 3 Touring and to my left, the new BMW Series 3, because of the new BMW Series 3, according to the product genius that will support us for any type of question, technical and technological question, related to the system of assistive BMW, David, to whom I pray for you eventually to give questions about technology. I just wanted to mention this, that BMW is working and working and working and working on all the models in commerce, that there are some technology systems that have to improve the experience of driving. It means to make it more secure and more comfortable. We know that our claim is the pleasure of driving, always, but also the pleasure of driving is evolving in time with the support of technology. And the application of technology is related to the facilitation in the guise, the sensibility in the guise, the security in the guise. As you can see, on both sides of the model, these devices are already available. One of them is the Intelligent Personal Assist, which is the famous ABMV, which is a real and real assistant to the guise, which allows the guise to recognize and record a series of functionalities, functions, conditions climatic, approach to the guise itself. The system manages to memorise all the information that is transferred and to make sure that the guise the guise itself in the moment in which he needs. My driving assistant, rather than the assistance to the parking lot, they are already available on the entire gamut of BMW, from the high of the gamut of the series 7 to the new series 1, which I wanted to spend only one word because we, as BMW Milano, we are the commercial company of BMW Italy on Milano, and so we have to give you that we are launching it, we are going to see it and try it from October October. It is a totally new product, even if we take the concept of series 1 that is the third, third generation of series 1, you can see it even a bit of an eye, it is a little bit larger, a little bit larger, it is certainly in comfort. I cannot defend myself on the previous one because it is not allowed to do it, but I understand perfectly the problem, but this one will maybe in separate sede. So, to the left, the series 1, addirittura, the version 135 M Sport from 306 CV, and, everything here, you can find us to find us, not only through the experience of Test Drive, but through the Product Genius Academy, how the technology BMW viene messa a disposizione, a servizio dell'utente, di chi la guida o di chi la ama. Con questo, io vi ringrazio e passo la parola. la piccola polemica deriva dal fatto che io sono un amante della guida, però vi posso assicurare una cosa, che questa macchina ha quattro ruote motrici e la prevalenza è sul posteriore, per cui ho detto tutto. Siamo a posto. Tra l'altro, io posso, tu no, ma io sì. C'è una ragione vera perché la BMW ha pensato di spostare la trazione sull'anteriore. Venne fatta una survey qualche anni fa tra i proprietari e il 60% non lo sapeva. Verissimo. E non lo sapeva e quindi tutti si sono domandati ma qual è il motivo per il quale dobbiamo insistere su un'architettura quando chi la guida non lo sa. Lo percepisce. Quindi, questa è una spiegazione assolutamente logica, no? Poi, dal punto di vista delle macchine autonome, in pectore oggi i sistemi di ausilio alla guida, i famosi ADAC, sono già nelle condizioni di darci questo tipo di supporto. È un problema legale, è un problema anche etico per certi versi, per cui non dobbiamo solo aspettare. Nel 2030, di cui vi citavo prima l'esistenza, è previsto che cominciano ad esserci un certo numero di macchine effettivamente a livello 5. Infatti, parliamo di assistenza alla guida, guida semi-autonoma o co-piloting proprio perché non lasciamo, non abbandoniamo il guidatore totalmente. Non abbandoniamo il guidatore, ma... Grazie ancora. Perfetto, ma ci mancherebbe. Grazie a te Francesca.